Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Caniguida. Dona due occhi a chi non vede, per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Caniguida. Insieme, vediamo oltre.